C'è voglia di trascorrere tempo all'aria aperta ed ancor più di godere del sole in spiaggia e in sicurezza. Raccogliendo la forte domanda dei cittadini, i balneatori guardano con grande attenzione ad un ritorno in spiaggia, mentre in Litorania sono già comparsi i primi mezzi meccanici di Salerno Pulita per la pulizia delle spiagge, per restituire gli arenili ai cittadini che per i prossimi giorni riguarderà tutto il litorale salernitano. Anche gli stabilimenti balneari sono pronti a riaprire in linea con le nuove indicazioni del governo. Ad un anno dalla pandemia questa volta si riparte senza troppi disagi. Se le regole resteranno le stesse, 10 metri quadrati di area per ciascun ombrellone, un metro e mezzo tra i lettini, tre metri e mezzo tra le file di ombrelloni, percorsi differenziati, sanificazioni continue ma con qualche preoccupazione in più. Così ai nostri microfoni Alfonso Amoroso, presidente del sindacato italiano balneari, moderatamente ottimista perché resta l'incognita dell'evoluzione del quadro sanitario e dei contagi. La sfida anche per gli imprenditori del sindacato balneatori è quella dei vaccini. Diciamo che noi ci auguriamo il 15 maggio perché è una data che accontenta la stragrande maggioranza. Tengo presente che anche nella nostra provincia ci sono delle zone che già si lamentano perché il 15 maggio è un po' tardi per loro. Però diciamo che per la maggior parte della nostra provincia il 15 maggio è una data ottimale. Speriamo che si venga confermata questa e speriamo che riusciamo ad aprire con i migliori aspici. Ce l'auguriamo tutti che sia diversa dall'anno scorso. Anche se i presupposti non sono tali, visto che quest'anno partiamo con un indice più alto di contagi e quindi il rischio è più grosso dell'anno scorso. I balneatori sono già al lavoro per preparare le spiagge, gli stabilimenti, arrivano già richieste da parte dei clienti? Sì, le richieste ci sono anche perché la nostra clientela è fedelissima, quindi non ci fanno mancare il loro apporto. Quindi le richieste ci sono, stiamo già cercando di operare, aspettiamo le ultime autorizzazioni per poter partire con il montaggio delle opere e linee che poi formeranno quello che è il lido, lo stamento balneare. Ad un anno dalla pandemia quest'anno sarà un'estate diversa. Da un lato c'è già una preparazione di base su come organizzarsi per la disposizione di lettini ed ombrelloni e dall'altro però c'è la preoccupazione del covid ancora più forte rispetto alla l'anno passato. Anche voi siete tra le categorie che richiedono con forza di essere vaccinati. Certamente sì, perché quest'anno a differenza dell'anno scorso abbiamo questo problema del covid più forte. Speriamo che le esperienze dell'anno scorso, quindi per quanto meno gli stanziamenti, le mascherine, l'uso dei mascheri solidi, sia servito a darci come degli insegnamenti che possano in qualche modo quest'anno aiutarci a superare questo periodo più critico per quanto riguarda i contagi. Per quanto riguarda la nostra vaccinazione lo chiediamo con forza perché essendo una categoria che ha contatto con tutti, non possiamo in qualche modo tenere fuori nessuno. Abbiamo bisogno di essere prima noi vaccinati per poter in qualche modo dare tranquillità alla nostra clientela. Il punto di forza è sicuramente la vaccinazione. Noi ci auguriamo che per giugno, quando l'estate entrerà nel clou, le vaccinazioni siano come si dice insomma a buon punto, i vaccinati quindi sono molti e questo porterà giù il numero dei contagiati così come il calore, il tepore, il sole caldo in qualche modo abbetterà il movimento del virus e tutto questo ci aiuterà a trascorrere una stagione sicuramente bellissima ma comunque con preoccupazioni.